La chitarra Con la stessa immagine con il quale poi mi presento sui palchi in generale Se mi posso permettere, però potresti farti fare una base senza la chitarra e te la suoni tu quando fai il pezzo con la base Perché interagiresti meglio col cantato e la chitarra dal vivo, ti viene facile se sei musicista fare Sì è vero, non ho fatto solo per un motivo perché spesso non so il service che c'è quindi alcune volte mi è capitato di trovare cose che poi Tu portatele tutte e due, una base con chitarra e una senza, all'occorrenza decidi quale usare Perché ti viene meglio l'interpretazione, capito? Ti aiuta la chitarra, visto che sei musicista Grazie comunque Grazie a te Grazie Lion